Tre mestieri etneo ha il suo baby sindaco, si tratta di Alessio Iuzia, 11 anni eletto a furor di popolo dai compagni dell'istituto comprensivo Edmondo De Amicis. Oggi grande festa a Palazzo di Città per la sua proclamazione. Il progetto mira a fondare le basi di quella che è la cultura del senso di responsabilità civica e riteniamo che la partecipazione al senso democratico e rispetto degli altri debba partire dagli studenti. È una responsabilità alta, sì, però farò il possibile per rendere la scuola un posto migliore in modo che i miei compagni, oltre a studiare, si possa anche divertire di più, possano migliorare la scuola, fare in modo che la scuola sia un posto migliore. Non mi sento ancora con queste esperienze di dare consiglio a un sindaco più importante di me, però posso guardargli soltanto la buona fortuna per amministrare meglio la città. Io quando sono arrivata in questa scuola tre anni fa ho voluto fortemente questo progetto che prima si era già fatto, ma ha molto tempo addietro. E l'ho voluto fare rinascere perché è molto importante per i ragazzi rendersi conto della validità, della politica quando la politica è servizio. Normalmente gli occhi più attenti sono quelli dei più piccoli e attraverso loro arrivano i messaggi più importanti a noi più grandi. L'esperienza del baby sindaco è un'esperienza bellissima, è un'esperienza che consolida un percorso e inizia a fare capire fin da piccolo l'importanza dell'istituzione, l'importanza di amare il proprio territorio, di amare la propria comunità. Dai piccoli noi abbiamo preso spesso spunto per iniziative, iniziative sociali, iniziative culturali. Sono sicuro che con questo baby sindaco peraltro di navigata, esperienza, questa è una battuta, però sarà così, riusciremo insieme alla scuola a fare bei progetti, sicuramente in partenariato, già lo facciamo. In questo caso useremo le due cariche, la carica del baby sindaco e la carica del sindaco. Insieme ho visto a un numeroso gruppo di consiglieri che insieme ai nostri vorranno lavorare sul territorio. Comunque crediamo in questa esperienza, anzi che sia da sprono per tutte le altre istituzioni. La figura del baby sindaco e di tutta la giunta del consiglio è importante per una comunità.